Il direttore ha mangiato pesante, ci penso io. Qui ci vuole Vigorsol, il pronto soccorso alito. Vigorsol, il pronto soccorso alito, è il chewing gum in confetti dal gusto fresco, freschissimo. Vigorsol, il chewing gum che ti dà alito fresco. Vigorsol, vince. Il direttore ha mangiato pesante, qui ci vuole Vigorsol, il pronto soccorso alito. Vigorsol, il pronto soccorso alito, è il chewing gum in confetti dal gusto fresco, freschissimo. Vigorsol, il chewing gum che ti dà alito fresco. Vigorsol, vince.